buonasera a tutti ragazzi puntate un po' più veloce ci sono stati un po' di problemi oggi nel caricamento del podcast quindi andiamo un po' più veloci perché ho comunque diverse idee da darvi vi voglio subito dire che ieri siamo stati un po' sfigati nella selezione diciamo delle free pick perché non è stata per niente una giornata negativa anzi è stata una giornata bene o male di pari però abbiamo selezionato male le free pick vi avevo dato florida meno 4,5 nel college secondo tempo da incubo per i gators che hanno addirittura perso contro mississippi state e poi vi avevo dato anche se non sbaglio un ordine in linoise meno 2,5 contro Ohio un ordine in linoise ha vinto di 2 quindi anche un po' di sfiga però nel canale telegram sono arrivate anche delle belle segnalazioni tipo duke meno 9 nel primo tempo tipo Rhode Island meno 4,5 contro George Mason e vabbè stessa cosa nell'hockey vi avevo consigliato i Sabres vincenti nei tempi regolamentari in casa contro i Senators hanno perso contro i Senators i Sabres Buffalo continua a deludere nel canale VIP però avevo dato anche la vittoria dei Blues a Calgary qui c'è andata bene e abbiamo preso anche una bella quota 2,10 infine basket NBA vi avevo consigliato il over 14,5 per Norman Powell Toronto ha segnato tanto ancora una volta 130 punti contro Atlanta solo 6 punti da Powell peccato tra l'altro vi avevo anche consigliato come bonus pick la vittoria di Miami in casa contro Boston vittoria che non è arrivata nella stessa partita avevo consigliato anche Under che è entrato nel canale VIP Under anche a Charlotte è entrato senza problemi bella anche la doppia Grizzlies più 5,5 assieme a Sans più 12,5 ci hanno ripagato bene comunque è andata così speriamo di essere un po' più fortunati nella selezione di oggi tanto mi arrivano dei messaggi a GoGo chissà è Vittor Oladipo che mi sta dicendo che questa sera esordisce e questo lo uso come inizio per entrare nella NBA ci sono in programma 6 partite questa notte si inizia appunto da Indiana Pacers Chicago Bulls Pacers favoriti con meno 9,5 punti di handicap io farei attenzione perché i Bulls non li ho visti malissimo momento positivo per Chicago che arriva da due vittorie ha vinto tre delle ultime quattro partite Zach Lavin sta andando alla grande non c'è Mark Kanen e non ci sarà fino a marzo però la grande notizia appunto è che questa notte dovrebbe esserci il grande ritorno di Vittor Oladipo debutto stagionale per la stella di Indiana che però ha in dubbio Brogdon e Miles Turner quindi attenzione poi il rientro di Oladipo avrà probabilmente un minutaggio limitato magari sconvolgerà gli equilibri più che portare un bene non lo so non lo so ho questa idea di andare verso Chicago più 9,5 ma secondo me Chicago perderà ma non è detto che perde in doppia cifra comunque non è una giocata ufficiale passiamo a Brooklyn Nets di Detroit Pistons l'unica vittoria dei Nets nelle ultime sette partite è arrivata proprio a Detroit due squadre pessime subito dopo Brooklyn ha poi perso a New York non c'era Kyrie Irving Irving che segnò 45 punti nella partita di cui abbiamo parlato prima a Detroit oggi ha una linea 25,5 però non è confermata la sua presenza in campo i Nets non l'hanno ne ancora confermato e la linea di Brooklyn è scesa da meno 8,5 a meno 6,5 dall'altra parte Pistons con una lunghissima lista di infortunati si è temuto anche per l'Eric Rose ma nessun problema Rose dovrebbe essere in campo questa notte a differenza di Griffin o di Kennard c'è anche Drammond e Dumbuya in forse ci sarà anche Reggie Jackson 17,3 punti di media in tre partite da rientro per l'infortunio e passiamo a New York Knicks Memphis Grizzlies qui c'è la mia free pick Memphis Grizzlies vincenti a 1,74 quindi vincenti proprio in money line tra l'altro vedo che questa linea questa quota su Bet365 sta scendendo a 1,68 perché dico questo? entrambe le squadre sono in back to back i Knicks ieri hanno fatto pena hanno perso 92-97 a Charlotte e segnare 92 punti alla difesa degli Hornets è un problema del resto hanno giocato praticamente solo Julius Randall e Marcus Morris gli altri hanno fatto tutti pena RJ Barrett salterà la settima partita di fila dall'altra parte i Grizzlies ieri hanno vinto hanno battuto i Nuggets terza vittoria di fila undicesima nelle ultime 13 partite Memphis è un po' sottovalutata perché a differenza dei Knicks ha veramente tante frecce al proprio arco penso a Dylan Brooks 9 parestazioni da 20 o più punti nelle ultime 12 partite penso a Jonas Valanciunas che arriva da un'altra doppia doppia penso a Jean Morant che si è fermato solo i 14 punti ma ha anche messo a segno 7 assist e 4 palle rubate oggi attenzione over 1,5 palle rubate 2,95 mingolosisce Jackson ieri 10 punti ma anche 7 stoppate insomma è una squadra bella completa anche se Crowder rimane in dubbio in forte dubbio dovrebbe rimanere fuori vi dico anche che i Grizzlies hanno vinto 11 delle ultime 15 sfide contro i Knicks e quindi oggi gioco contro i miei Knicks e andiamo con la vittoria di Memphis passiamo a San Antonio Spurs Utah Jets tre sconfitte di fila per gli Spurs che nell'ultima erano senza la Marcus Aldridge le ultime notizie lo danno confermato out anche questa notte e io quindi come bonus pick vi consiglio DeMar DeRozan over 23,5 punti DeRozan nell'ultima partita senza Aldridge ha segnato 36 punti seconda volta nelle ultime tre partite in cui la stella di San Antonio segna 30 o più punti vi dico anche che i Jets nell'ultima uscita hanno concesso tanto ai Rockets 126 punti di cui 50 a Gordon io credo che in questa importante sfida DeMar DeRozan dovrà e potrà dire la sua contro i Jets che è vero rimangono comunque la squadra del momento 19 vittorie nelle ultime 22 partite anche se ci hanno deluso tanto in casa contro i Rockets Houston era in back to back non aveva Harden non aveva Westbrook però Utah ha perso nonostante 35 punti di Donovan Mitchell vi dico anche Joe Inglis specialista da ultra l'arco nelle ultime due prestazioni è stato un po' freddino con la mano 2 su 13 da 3 passiamo a Portland Trailblazer Houston Rockets Damian Lillardi impressionante 158 punti non nell'ultimo mese nelle ultime 3 partite è una media di 52,6 oggi fa quasi ridere la linea 31,5 punti che è altissima per un normal giocatore ma con questi numeri è quasi bassa per Lillard con questo non dico di giocarlo però in effetti la difesa di Houston non è non è il massimo Portland ha ritrovato anche CJ McCollum 28 punti subito per lui dall'altra parte lo abbiamo detto pur senza Westbrook e Harden i Rockets hanno vinto nello Utah con un eccezionale Eric Gordon da 50 punti che mi ha ascoltato l'altro giorno lo sa lo volevo prendere ma mi sono addormentato aspettando in vano la sua linea mi sono svegliato il giorno dopo 50 punti di Eric Gordon però che altro vi posso dire vi posso dire che Westbrook rientra era stato tenuto a riposo sta giocando alla grande il Barba è ancora in dubbio però ci sono alcuni rumor spossibilisti sul rientro del Barba e in forza anche Clint Cappellà e chiudiamo con Sacramento Kings Oklahoma City Thunder i Kings arrivano da due vittorie in trasferta e vi segnalo che nel successo in Minnesota Buddy Yeld ha segnato 42 punti dalla panchina sta funzionando l'esperimento appunto di Buddy Yeld dalla panchina oggi ha una linea di 17,5 punti che è molto interessante e i Thunder invece dopo 5 vittorie hanno perso in casa contro i Mavericks e l'assente Chris Paul che dovrebbe rientrare questa notte a dicembre qui a Sacramento i Kings vinsero 94 a 93 una partita a bassissimo punteggio contro i Thunder Thunder che sono 2-7 ATS nei precedenti contro Sacramento ok breve blocco vi ricordo anzi vi ricordo le free pick che sono New York Knicks Memphis Grizzis vittoria dei Grizzis a 1-74 e San Antonio Spurs Utah Jets dei Rosen 23,5 punti a 1-87 ora breve blocco poi College Basket ed eccoci con il College Basket tante partite interessanti anche questa notte vi do per completezza per giustezza poi valutate anche un po' voi la free pick che è già uscita nel pomeriggio nel canale Telegram qui andiamo contro mercato però perché io ho consigliato Tulane Green Wave contro South Florida Bulls vittoria dei Green Wave a 1-85 la quota è salita a 1-95 adesso Tulane è sfavorita in casa però fino al mese scorso questo era un programma abbastanza sorprendente è vero che arriva da tre sconfitte ma in casa potrebbero rifarsi contro South Florida che di partite ne ha perse 5 di fila con un 1-4 ATS in queste 5 partite South Florida ha segnato meno di 54 punti di media e ha tirato sotto al 36% dal campo vi segnalo anche che Tulane è avanti 6-2 ATS negli ultimi precedenti contro South Florida quindi forza Green Wave l'altra bonus pick che vi do ho dato 4 giocati in tutto nel canale VIP al momento in verità non l'ho ne ancora segnalata cioè non l'ho ne ancora decisa in teoria sarebbe stata e ve la do però qui c'è stata una quota questa invece non andiamo contro mercato anzi siamo pienamente sul mercato perché sto parlando adesso devo ritrovare voglio avere la conferma della linea se l'abbiate pazienza ce l'ho fatta dicevo la bonus pick sarebbe Louisiana State Tigers contro Alabama Crimson Tide bella sfida anche se non parliamo di football sarebbe stato un super big match e lo è stato quest'anno per quanto riguarda il football ma è bello anche nel basket e mi aspetto una sfida spettacolare io ho consigliato over 159,5 punti totali a 1,74 la linea media oggi pomeriggio era 161,5 quindi abbastanza alta adesso spieghiamo il perché però adesso è salita 165,5 quindi con Tulane siamo contro il mercato qui siamo in pieno appoggio del mercato comunque LSU 23esima squadra del ranking nazionale 8 vittorie di fila Alabama è una delle migliori squadre della nazione come scommesse con 15-4-1 ATS anche se nel 77-74 contro Kansas State hanno interrotto una striscia di 9 handicap consecutivi coperti io vi segnalo over perché Alabama ha anche il quarto miglior attacco della nazione segna quasi 83 punti ogni sera ma anche LSU è ottimo in attacco è undicesima segna poco meno di 80 punti di media il problema di Alabama è la difesa 76,6 punti concessi tra i lontanissimo ovviamente dalle migliori squadre difensive quindi andiamo almeno su 160 punti totali tra queste due squadre che inoltre hanno prodotto 5 over negli ultimi 7 precedenti va bene diciamo due cose anche sulle altre partite la più bella è Iowa State Cyclones contro Baylor Beers sfida di Big 12 con Baylor che è la miglior squadra della nazione è chiamata una trasferta non così semplice ad Iowa State è favorita con meno 4,5 punti c'è anche 7 on all P-Rates contro De Paul Blue Demons sfida di Big East 7 on all è nona nel ranking nazionale 9 successi di fila con anche un ottimo 8-1 ATS De Paul invece ha vinto solo una delle ultime 8 partite tenendo un 2 ATS nelle scommesse e a fine dicembre ha perso 66 a 74 in casa contro 7 on all oggi 7 on all secondo me potrebbe vincere ancora in doppia cifra c'è anche Michigan State Spartans contro Northwestern Wildcats qui siamo in Big Ten Michigan State è 14esima nel ranking nazionale arriva da una bella vittoria in Minnesota non dovrebbe non dovrebbe avere problemi a vincere anche oggi per l'handicap invece il discorso è diverso perché sono meno 17 punti da coprire e non dimentichiamo che lo scorso mese gli Spartans vinsero contro Northwestern ma solo di 5 punti è vero che erano in trasferta però è un riferimento non tanto lontano nel tempo è sempre da tenere in considerazione anche se io mi aspetto una bella prova da Cassius Winston e compagni Kentucky Wildcats Wonderbilt Commodores sfida di SEC anche qui Kentucky 13esima nella nazione è nettamente favorita meno 21 punti di handicap contro Vanderbilt che arriva da 7 sconfitte di fila con un 1-6 ATS e andiamo più veloci Central Florida Knights contro Memphis Tigers Memphis è uscita dalla top 25 del ranking nazionale dopo le sconfitte a Tulsa e contro Southern Methodist oggi Memphis cerca il rilancio e può farcela anche se è in trasferta contro Central Florida che arriva da una brutta sconfitta a Wichita e andiamo con East Carolina Pirates contro Houston Cougar Houston zitta zitta è salita al ventesimo posto del ranking nazionale è un'ottima difesa oggi è favorita meno 13 in questa trasferta e andiamo poi a Duquesne Duke contro Dayton Flyers un'altra squadra che zitta zitta sta salendo è Dayton settima nel ranking nazionale attenzione a Duquesne che ha sempre vinto in casa in questa stagione 8 vittorie su 8 in questa sfida di Atlantic 10 comunque i Dukes anche se giocano in casa sono sfavoriti hanno più 8,5 punti di handicap in appoggio e vi dico anche che Dayton è avanti 6-2 ATS negli ultimi precedenti andiamo con Texas Tech Red Riders West Virginia Mountaineers sfida di Big 12 anche qui molto interessante West Virginia undicesima nel ranking nazionale ha vinto 5 delle ultime 6 partite con anche un 5-1 ATS nelle scommesse Texas Tech non riesce a cambiare passo anche se contro Kentucky ha giocato bene 18 punti di Edwards 15 del nostro Moretti l'11 gennaio scorso i Red Riders persero 54-66 a West Virginia chissà se riusciranno a prendersi la rivincita in casa oggi sono comunque sfavoriti a più 2,5 no scusate sbaglio io i Red Riders sono favoriti a meno 2,5 andiamo con le ultime tre partite Penn State Nittany Lions Indiana Osiers Penn State è il 23esima nel ranking nazionale un record di 10-1 in casa attenzione però a Indiana che dopo aver vinto in Nebraska e contro Michigan State ha perso contro Maryland ma solo di un punto quindi gli Osiers in questa stagione stanno confermando settimana dopo settimana di potersela giocare anche contro top team andiamo con Boston College Eagles Louisville Cardinals Boston College dopo 4 sconfitte ha vinto da sfavorita contro Virginia Tech ma oggi credo tornerà a capitombolare contro Louisville quinta nel ranking nazionale i Cardinals hanno vinto 6 vittorie di fila secondo me oggi vinceranno e potrebbero vincere anche abbondantemente in doppia cifra quindi coprendo l'handicap di meno 12,5 punti e chiudiamo con New Mexico Lobos San Diego State Aztecs una sfida di Mountain West resa molto interessante per via di San Diego che è la quarta squadra del ranking nazionale è l'unico programma che è rimasto ancora imbattuto 21 vittorie su 21 più 17,3 punti di handicap medio di margine medio oggi gli Aztecs sfidano i Lobos che arrivano invece da una brutta sconfitta in Nevada e anche oggi potrebbero prendere una paga seria oggi pomeriggio mentre stendevo mentre facevo la stesura del pezzo non c'erano ancora le linee di handicap sono uscita adesso San Diego State meno 11,5 apriva a meno 10 è andata subito su infatti io me l'aspettavo ancora più alta me l'aspettava meno 13,5 meno 14,5 anche se New Mexico ha sempre vinto in casa ma è una squadra nettamente inferiore a San Diego State non lo so lasciamola lasciamola in pausa comunque e adesso andiamo noi in pausa perché poi chiudiamo con l'HL e chiudiamo con l'NHL anche qui 6 partite questa notte vi do una sola giocata anche oggi niente bonus pick perché ho dato due giocate in tutto e quindi vi vado a presentare subito la mia free pick sul big match della notte Washington Capitals Nashville Predators anche se c'è pure Dallas Stars contro Toronto Maple Leaf molto interessante comunque Capitals contro Predators io ho consigliato l'over 6,5 a 2 di quota andiamo a vedere anche qui se ci sono stati cambi nella quota è un po' scesa è scesa a 1,95 quindi anche qui sono contento perché ho giocato over allora volevo giocare la vittoria di Washington in Moneyline Washington arriva dal 4-2 New Jersey quarto successo di fila miglior squadra come rendimento nelle scommesse torna in campo Vetchkin i Predators invece sono tornati dall'All-Star Game perdendo in casa contro Toronto però non dovrebbe partire Samson o vi importa ma Altby e con Altby tra i pali i Capitals hanno segnato 5 over nelle ultime 7 partite quindi dall'altra parte considerando che Peccarinde non sta facendo benissimo secondo me questa notte potremmo vedere un over non dimentichiamo che nel precedente di inizio stagione a Nashville i Predators vinsero 6-5 contro i Capitals 11 gol totale oggi me ne basterebbero anche solo 7 per fare un bel raddoppino quindi Capitals Predators over 6,5 2 di quota la mia free pick due parole anche su Dallas Stars Toronto Maple Leaf Toronto ha ritrovato Muzin ha vinto 5-2 Nashville come abbiamo detto lunedì notte gli Stars invece hanno fermato per 3-2 in overtime i Lightning oggi la miglior difesa ovvero quella di Dallas è chiamata a fermare l'ottimo attacco dei Maple Leaf che non per niente hanno segnato 6 over nelle ultime 7 partite attesa invece una sfida da basso prunteggio tra Anaheim Ducks Arizona Coyotes Coyotes sono tra le squadre che concedono meno gol di media i Ducks sono tra i peggiori attacchi 2,45 gol a sera sono davvero pochi Arizona ha vinto le ultime due sfide in casa contro Anaheim ma perse il primo scontro stagionale all'Onda Center andiamo poi con Los Angeles Kings Tampa Bay Lightning i Lightning sono chiamati alla vittoria dopo aver perso a Dallas ma la quota 1,45 è davvero bassa in trasferta anche se siamo a LA i Kings arrivano da 4 sconfitte hanno vinto solo una delle ultime 8 partite e hanno sempre in forza Doughty il 14 gennaio a Tampa i Lightning vinsero contro i Kings ma per 4-3 solo agli shot out Edmonton Oilers Calgary Flames gli ospiti sono in back to back ieri abbiamo detto hanno perso contro i Blues con Cam Talbot in porta oggi torna il titolare David Rittich che sta giocando un'ottima stagione prima uscita degli Oilers dopo l'All-Star Game a cui erano arrivati molto bene con due vittorie e 11 gol segnati Edmonton ha però perso le prime due sfide stagionali contro Calgary a chiudere la nottata ci sarà San Jose Char Vancouver Canucks gli Shark arrivano dal 4-2 sui Ducks provano a mettere due vittorie in fila che è una rarità per San Jose quest'anno dall'altra parte Vancouver ha ripreso la stagione col 3-1 sui Blues terza vittoria di fila per una squadra che in queste tre vittorie ha concesso esattamente un gol a partita Vancouver sta giocando abbastanza bene ha vinto due delle prime tre sfide contro San Jose compreso il 4-1 del 18 gennaio quindi di recente in casa prima appunto dell'All-Star Game ok siamo arrivati alla fine io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona serata fate buone scommesse puntate sempre con la testa noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno per Bet Italia Web Daily Show dobbiamo bestemmiare il campionato non mi ricordo cosa ma siamo stati sfortunati credo egiziano non abbiamo chiuso una bella doppia 1-90 per colpa di un gol al 95esimo vediamo vediamo il resto ok io vi ringrazio e buona serata ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.